Vedete? Quelle lì creano marciume, creano marciume sicuramente sarà un prodotto, questo qui che non è valido nemmeno per l'industria perché per fare il succo di frutta si sporca la purea perché qui diventa marrone e marcisce. È Dante Moretti, imprenditore agricolo della Valdichiana Retina a spiegarci il danno causato da una violenta grandinata che c'è stata nel pomeriggio del 7 di agosto. Per alcune aziende il danno sfiora all'80% e questi frutti saranno immessi nel mercato ma ovviamente con notevoli danni economici per le aziende che li producono. Ieri è stato fatto le perizie, siamo sul 55% di danno su questo frutteto e anche siamo arrivati all'80% perché come sapete la grandina sempre ha dato una strisciata. Qui dalla metà in giù c'è più danno, dalla metà in giù meno. Andando verso Alberoro, Pollice Verde, Merelli e altre aziende, Randellini, Tavanti, loro hanno avuto anche più danno di qui. Vedi questa pesca qui? È stata colpita e visto che ancora la pasta è molto dura, quindi è vetrosa, vedi che grettiche si creano? Ora magari cresce tra un colpo e l'altro, si creano anche queste spaccature naturali. Ci mettono in ginocchio queste situazioni. Poi il problema è anche un altro, essere nel mercato. Se un'azienda come questa e comunque l'azienda qui della Valdichiana creano un prodotto notevole, un prodotto di qualità, non essere nel mercato crea problemi perché il consumatore in questo periodo chiede il prodotto della Valdichiana.